I sindacati di polizia penitenziaria stanno programmando tra il 7 e il 9 novembre una grande manifestazione di protesta di fronte alla casa circondaliare di Cremona e davanti alla prefettura. Il carcere cittadino è tra i peggiori d'Italia e opera in un contesto ormai esplosivo. 445 detenuti e 12 sezioni detentive con soli due funzionari giuridici pedagogici, senza parlare della cronica carenza di agenti di polizia, di sovrintendenti, ispettori. Le aggressioni ormai sono quasi all'ordine del giorno e la presenza di stranieri ammonta il 70% della popolazione carceraria. Abbiamo aderito a un'astenzione della mensa di servizio per protestare verso l'amministrazione non solo locale ma anche a livello regionale e a livello dipartimentale in quanto l'Istituto Cremonese ha una grandissima carenza di tantissime figure dalla polizia penitenziaria di circa 40 unità, educatori, contabili, amministrativi, area sanitaria che ha molte lacune soprattutto sui medici di guardia e soprattutto infrastrutturale. Non abbiamo in questo momento un reparto di isolamento per poter gestire detenuti particolari. Non possiamo gestire detenuti molto facinorosi. Fra l'altro sono sempre giornaliere le aggressioni verso le persone di polizia penitenziaria. Noi chiediamo di lavorare con più sicurezza e chiediamo di lavorare con gli strumenti necessari che sono previsti dalla legge. Per questi motivi abbiamo intrapreso questa manifestazione di protesta e vogliamo andare oltre. Se i nostri diritti non saranno mantenuti pensiamo di manifestare fuori dall'Istituto Cremonese per cercare ogni tutela possibile perché la polizia penitenziaria è abbandonata a se stessa. Questo non solo a Cremona ma in tutti gli istituti della nazione. Ci aspettiamo un'attenzione particolare sia da parte del nostro direttore sia da parte del nostro preditore con mettere in atto qualche trasferimento di personaggi particolari. Per questi motivi siamo qua a manifestare.